Durante gli anni Ottanta si svolsero tre Olimpiadi. Nel 1980 a Mosca, nel 1984 a Los Angeles e nel 1988 a Seoul, in Corea del Sud. Ben lungi dallo spirito pacifista che ispirava fin dall'antichità i giochi, nel nome dei quali i greci sancivano una tregua in onore di Zeus, le Olimpiadi degli anni Ottanta furono l'ennesimo specchio della guerra fredda fra USA e Ursa. Ai giochi di Mosca vi fu un boicottaggio contro l'Unione Sovietica da parte degli Stati Uniti che ritirarono la loro delegazione in segno di protesta per l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Altre 64 nazioni seguirono l'esempio degli USA e non presero parte ai giochi olimpici di Mosca. In Europa non vi parteciparono la Germania Ovest, il Principato di Monaco, la Norvegia, il Littenstein e l'Albania. In Asia la Cina, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, Israele, il Giappone, la Corea del Sud, la Tailandia. In America, oltre agli USA, il Canada, l'Argentina, le Bermudas, la Bolivia, il Cile, il Salvador, l'Uruguay e Panama, anche molti stati africani si unirono alla protesta e in totale le nazioni rappresentate a Mosca furono solo 81. Chi vinse più medaglie, scontato dirlo, fu l'Unione Sovietica, seguita dalla Germania Est, dalla Bulgaria e da Cuba. E dietro a queste squadre del blocco sovietico, l'Italia, con 15 medaglie. Nel 1984 si tennero le Olimpiadi di Los Angeles. La città californiana era candidata ai giochi, ma era l'unica candidata. Presero parte, alla ventitresima edizione delle Olimpiadi, 140 nazioni e il boicottaggio dell'Urs e dei paesi del patto di Varsavia fece da contrappasso alla precedente astensione degli USA. I giochi di Los Angeles vennero disertati dall'Urs, dal Vietnam, da Cuba, dalla Corea del Nord e dai paesi del Comecon come la Bulgaria, la Cecoslovacchia, era non solo stato la Slovacchia e la Repubblica Ceca, la Germania Orientale, la Polonia, l'Ungheria. In tutto aderirono alla protesta sovietica 17 stati, molti meno dei 65 che boicottarono le Olimpiadi di Mosca a causa dell'invasione dell'Afghanistan. La Romania non aderì alla protesta partecipando ai giochi ed arrivando seconda nel medagliere dopo gli USA e davanti alla Germania Ovest. La Cina ottenne il quarto posto e l'Italia il quinto. I giochi olimpici si svolsero per la terza volta negli anni Ottanta a Seul, in Corea del Sud, nel 1988. Questa volta vi parteciparono sia l'Urs che gli Stati Uniti per un totale di 159 nazioni. L'Italia ottenne solo 14 medaglie, fra cui sei ori, classificandosi decima nel medagliere. E le Olimpiadi successive, quelle del 1992, si svolsero in un mondo completamente nuovo. Barcellona, la città ospitante, simbolo di una Spagna arinata dalle ceneri della dittatura, non accoglieva più gli atleti di un mondo diviso fra due blocchi. All'Urs si era sostituita una squadra unificata composta dagli atleti di 12 diverse repubbliche indipendenti, che fino all'anno precedente avevano gareggiato sotto il rosso della bandiera sovietica. Ottenne questa squadra unificata il primo posto nel medagliere. L'uksi specifici le spiltri sulla bandiera diике da qualche miglia. Oggi la città ospirabile da una scala.